Buona serata ...da Unica e Uruguay Griff, poi l'uno di United. Cavalli dopo 200 metri in 13 e 4 e Tacoperre esiste ancora ma insiste a largo Uruguay Griff, allarga ancora Unica del Rio. Cavalli ha il completamento del quarto iniziale, quarto iniziale che se ne va nell'ordine del 29 e non passa ancora Uruguay perché gli rientra Tacoperre nelle prime posizioni United, viene via il 10 di Uniti di Poggio. Cavalli dopo 600 metri di gare, i 600 in 43 e 9, si è formato una seconda fila a largo, Terribull anche a largo, Usengota entra la terza ruota ma trova traffico infernale per lavori in corso. ...mezzo miglio, 58 e 8, si fa a velocità, sembra controllare ancora bene Tacoperre, Tacoperre in vantaggio, si fa notare il numero 7 di Unica del Rio che punta in avanti, ma a largo Usengu ha messo le overdrive, punta in avanti, supera via via diversi avversari. ...viene via anche Uniti di Poggio, 14-1 il chilometro, Tacoperre in linea con Unica a largo, Insista Usengu, contrastato da Uniti di Poggio. Cavalli ha il completamento quasi della curva finale, con Tacoperre con ancora mezzo di vantaggio, Unica a largo, Uniti e Usengu. ...retta d'arrivo, Tacoperre al comando, tenta lo stacco Tacoperre, Insiste, Uniti di Poggio, eviti e lo vuol far bella figura. ...il vitiello vuol far bella figura, ma Tacoperre è in vantaggio, i cavalli sono in zona traguardo, Uniti di Poggio, il buon vitiello nella giornata giusta. ...galoppa Usengu Jet, 1,58 e 2, 1,13 e 9, per la memoria di Carlo Saturno che gli dedica questa vittoria. ...il buon vitiello era sempre presente con noi, sempre, ma in questi giorni Carlo Saturno era speciale. ...10 al primo, 2 al secondo, Tacoperre a stracorso, 7 al terzo, poi di Galoppo l'undici, 13 al quarto e al quinto posto. ...andiamo un po' più avanti, per favore, con questa macchina della regia. ...andate un po' più avanti, la regia si può... al 9 e quinto. ...questo dovrebbe essere il probabile ufficioso arrivo, signori. ...ma conservate sempre i ticket perché l'arrivo lo fa la giuria, il giudice d'arrivo, ma non lo Gio Salvio. Ringrazio Emilio, ringrazio Raff Palomba, Andrea Antonio e dallo studio il Toscanaccio per eccellenza Marranini. Signori, domani non mancate, stessa spiaggia, stesso mare, Gran Premio Lotteria di Agnano. ...e ora un applauso a Uniti di Poggio, il buon Vitiello e il ricordo indelebile di Carlo Saturno. Grazie e linea alla regia.